Siamo su YouTube. Hello! Interrompiamo. Clochard e benvenuti in questa nuova recensione. Abbiamo appena visto Fascisti su Marte di Corrado Cuzzanti. E anche un altro regista che ha fatto solo questo come film. Penso il film più bannabile presente. Mamma mia. Si è visto di tutto, saluti, blackface, parole bannabili, momenti di panico, però, ringraziando Dio, contestualizzati per i video party. Un film di satira fatto da, penso sia ideato da Cuzzanti. Sì, sì, sì. Anche lui, sì. 2006. 2006, chiaro. Cosa che quelli su YouTube non possono vedere, perché sta live, chi è che sa, può riguardare? Nessuno, credo, no? Perché una volta che il VOD finisce, se uno che riparte, è esclusivo. Eh, quindi, ve la prendete in der culo, se non venite. Per voi su YouTube, la prossima volta, tanto vi avvertiamo sempre, se volete vedere un film con noi, il modus superandi è questo. Sul gruppo Facebook ci proponete alcuni film, facciamo un sondaggio, e i primi poi vengono nuovamente messi qui in ballo per ulteriori sondaggi, e il film poi viene scelto, lo vediamo e lo commentiamo alla fine. Io onestamente non so che cazzo di perché, sul livello tecnico, ovviamente, è un film fatto, tipo, principalmente in green screen, con effetti speciali e pezzotti per effetto comico. Sul livello tecnico sai cosa posso dire? Un superbo montaggio. Montaggio top. Veramente bellissimo, ma soprattutto perché, essendo anche, ovviamente, un film di gag, i film di gag sono sempre molto difficili, perché questo, se non sbaglio, poi è stato tratto da vari sketch comici, su questa linea, che poi hanno creato il lungometraggio. Ed è sempre difficile fare queste operazioni, quindi un ottimo lavoro di Cuzzanti, che infatti, solitamente, al cinema, quando viene inserito in contesti di film non comici, difficilmente funziona. È un genio, assoluto, Cuzzanti. Però, ad esempio, se vedete il film di Guadagnino, dove arriva lui a un certo punto che fa una sorta di commissario, eccetera, rovina un po' il film, perché comunque, avendo una recitazione che non è cinematografica, ma è per un altro tipo di linguaggio, rompe un po' la serietà del film. Quindi, invece, qui è perfetto, chiaramente. Poi, è una scrittura eccelsa per far ridere dall'inizio alla fine, non è facile. Sì, stanno un sacco di tempi comici che ho apprezzato. La scrittura del film, come è stato impostato pure, originale, beh, è un pensato, ha preso per culo un sacco di cose pure, ha accaduto realmente. Vi vedo una leggera critica al colonialismo. Leggera. Sì, abbastanza. Vabbè, in chat c'erano degli snob che dicevano che per fruire di questo film bisogna aver studiato. Vabbè, sono tutte esplicite. E' un po' un'esagerazione. Poi, qualcosa, ovviamente, di rimando storico c'era che, appunto, non ho colto, perché chi cazzo si ricorda tutti i rimandi storici. Beh, certo. Comunque, era una critica un po' a tutte le... cioè, infatti, facevano un sacco ride perché hanno fatto sta satira collegata al colonialismo, però legata a sti alieni che non esistono, a tentati che non esistono. E poi, vabbè, c'erano tantissime analogie col fascismo, pure nella decisione di tutti quegli enti che venivano aperti. Sì, ma anche il bisogno può conoscere, però. Il pretesto pure per dire, c'è vuol manganello, c'è vuol pugno duro, perché c'è un reale bisogno, invece i bisogni che venivano montati. Sì, ma anche affamare il popolo e poi dire, no, ma siamo in guerra, dobbiamo pensare alle cose importanti, alle burocrazie del cazzo. Sì, anche. La propaganda, che poi lui stesso, mentre la faceva, gli andava contro. Dice, sta maledetta propaganda, quando in realtà era proprio tutto quanto basato sulla propaganda al popolo. Era il ventennio visto in pochi mesi, con poche persone, in miniatura, su Marte, cioè alla fine era quello. Ma se la dittatura è opprimere il popolo, invece la democrazia è il popolo che opprime se stesso, qual è la soluzione? Ma infatti il finale è perfetto. È il comunismo. Perché c'è il monologo finale che mette in dubbio... È una dittatura. No, il monologo finale comunque solleva anche legittime critiche alla democrazia. Ci sono delle mezze verità in quelle cose che poi dice Guzzanti nel suo monologo finale. La storia ci ha insegnato che abbiamo fatto tanti errori da soli, anche noi, anche eleggendo persone che poi, ahimè, non hanno fatto quello che pensavamo. Diciamo che la democrazia è il miglior compromesso, ecco. È il minore dei mali. Sì, come il capitalismo. Sennò fondiamo un'anarchia dove tutti si devono comportare bene secondo i propri principi morali e vediamo come va. È impossibile. Diventa Godam, diventa... Diventerebbe una... Tipo Arkham, anzi, ancora peggio. Una distopia. Vabbè, le Amazzo nei finali, meravigliose, tutti quanti rimandino ai vari momenti del colonialismo, poi i vari cambi di bandiera. Diciamo che poi alcune citazioni le hanno beccate pure in chat, anche le date, quando giocano a Tombola. Io poi se no, ad esempio. Tipo la liberazione, cioè quando poi Mussolini venne nuovamente, quando venne eletto, credo, se non sbaglio, comunque molto molto bello. Dice che sto film, adesso vi leggiamo anche in chat, dice che sto film era noioso, merita di vedere La guerra di domani. No, ma poi vabbè. Volevo fare due film, diciamo, alla fine, perché è durato tanto, aggiungeva altri dieci minuti, ci esceva capitolo 1, capitolo 2, però figo. Quanto è durato? Un paio d'ore? Un'ora e 40. Un'ora e 50. Ma sono volato, devo dire che dalle cose che è stata di prima, che sovedevamo, c'ho un po' timore, che sembrava quasi una cagata. No, ma ripeto, il film costruito a sketch. Solo i migliori riescono a renderli fruibili quando durano più di un'ora. Ad esempio i primi film di Woody Allen, anche Penso al Dormiglione, o alcuni film dei fratelli Marx, sono complessi. E questo alla fine fa ridere con le gag fisiche, con le classiche, anche un po' la Buster Keaton, eccetera. Fa ridere con i rimandi storici, reali, con le parodie, con tutto che poi è super esplicito, cioè anche di dascalico nella critica. Non è che chissà quale particolare critica è nascosta. E quindi è ancora più difficile. Simbolismi da decifrare, tutto abbastanza. Manifesto. Manifesto, sì, esatto. Avete già visto il film, sì. Una struttura super originale comunque è quella del fatto, cioè un'idea loro satirica di rifare il fascismo a livello comico con questa voce fuoricampo è stata geniale. Cioè, probabilmente gliela ruberemo pure su Twitch. Poi vabbè, il linguaggio, il lavoro sul linguaggio è stupendo. Poi sarà che a me fa ride quando vengono presi personaggi tipo, che ne so, fascisti, nazisti e vengono ridicolizzati, cioè è proprio una comicità che fa già ride di base, ma pure le cazzatine tipo messe lì, tipo su quell'orologio che erano le braccia del duce, no, che facevano così, è stupendo. Cioè, sono cazzate che te fanno scoppia ride. Poi quella è una cosa personale, ovvio. Poi è una costante presa per il culo e ridicolizzazione dei fascisti. Questo è il palese. Dal punto di vista proprio della struttura è costruito bene perché l'inizio parte come una sorta di documentario, quindi c'è solo voce fuoricampo con le classiche spiegazioni da film muto, quindi con il testo scritto. Poi piano piano, per renderlo più intrattenente, succede sempre qualcosa, a un certo punto c'è il delirio finale con il Mussolini tipo Thanos che lo insegue, le amazzoni che arrivano, sono gli alieni, quindi anche il ritmo è stato scandito molto bene, perché se fosse stato tutto come l'inizio ovviamente sarebbe stata una rottura di cazzo, invece la gestita veramente è bene come tempi. Ci sta che vada in bacca se saranno modificati, non lo so, poi appare un busto del duce che grida coglione, coglione, e lo insegue. Sì, è una cosa assurda. Con gli occhi laser. Sì, ma poi pure la blackface di Lillo. Sì, vabbè, Lillo ci ha scammato, ci pagherai danni Lillo. Esatto. Cazzi tu. Vabbè, il finale con Monolide del 2001, ma che vedevo, dico, con la musica veramente del film di Kubrick e dalla botta e parte la musica fascista. Sì, faccetta nera, tipo una cosa simile. Sì, non era quella, ma una di quelle, insomma. veramente, veramente bello. Poi Puzzanti, c'è poco da di un genio. Diciamo che avrebbe potuto fare una carriera anche alla WDL in primo periodo, però non è facile, è sempre difficile passare da sketch comici, un linguaggio che è a metà tra il teatrale e il televisivo a quello cinematografico. Qui c'è riuscito alla stragrande, indubbiamente, è un grande film. Così parlo Zaratustra, sì. Ma di che anno è sto film che vuoi sapere? 2006. Ok, vabbè, top. Grazie mille per aver visto questa recensione. Noi ci vediamo al prossimo Cineform oppure lunedì alle 15 su Twitch. Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa? Nel Cerbero Podcast. No, no, ho detto grazie. È stato un orgasmo costante. Sì, esatto. Marco, ti sei stavata a tagliare. Infatti ringrazio tutta la chat che non speravo vincesse due volte di fila il sondaggio che vedevo che stava da su. Tre volte di fila. Tre volte di fila. Ero l'unico che tifava. Ho tifato una cifra, vincesse e sono stato molto contento. Grandi. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì alle 15. Ciao, è diventata iconica la tua frase Marco, che taglio. È diventata iconica, sì, non me la sarei mai aspettato. Buon weekend e mi raccomando, tifate Italia! Forza Italia. Non spaccate tutto. E forza Italia. Ho già fatta questa gag. Mi piace sempre. Arrivederci. No, l'ho già fatta, me l'ho scordato. Ciao. 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 Ecco un podcast in azione, che presto cambia la mia sorte C'è vero, pop 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 podcast C'è vero, pop 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 podcast Marramichi liceidepe, lei urla rana 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 C'è vero, pop 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 podcast Tutupi vuole sti